Da 15 giorni manca una corsa del traghetto della Tirrenia che collega Cagliari Civitavecchia. Una delle carrette che segue la tratta ha subito l'ennesimo guasto e la Tirrenia non ha provveduto a sostituire il mezzo. Questo disservizio, a dispetto della tanto attesa continuità territoriale, lascia di fatto scoperti a giorni alterni i collegamenti tra Roma e la provincia di Cagliari. A pagare saranno prima di tutto i passeggeri, che per raggiungere via mare e il continente dovranno andare fino a Porto Torres. Ecco dove vanno a finire i finanziamenti statali per i trasporti, servizi fatiscenti e inefficienti. Cagliari di Cagliari, senza una nave, senza una nave per civiltà, non esiste, è la prima volta nella storia.